Siamo felici perché è stata una serata importante per questo percorso verso il mondiale. Abbiamo fatto quello che ci eravamo ripromessi di fare, che volevamo fare, ma poi non era scontato il risultato e bene, sono contenta. Come martedì la sfida è ancora più decisiva, soprattutto dopo il pareggio della Svizzera di oggi? Certo, è chiaro che noi andiamo là, abbiamo sempre un risultato, dobbiamo vincere, poi il fatto che abbia pareggiato è sicuramente qualcosa di positivo, ma per noi cambia qualcosina, ma non tantissimo, dobbiamo andare là e vincere e sappiamo che sarà un'altra storia là, perché giochiamo in casa loro, sul campo sintetico, ci sono tante insidie, però adesso godiamoci questo momento e ci prepariamo per la prossima. Daniela, stiamo aspettando questo gol, quanto ti mancava? Tanto, ma come ho detto prima sono contenta soprattutto di essere qui. Devo fare di tutto per mettere in difficoltà il CT, il mio compito è quello di segnare, di fare ottime prestazioni, di aiutare la squadra e quindi sono contenta, ma soprattutto perché abbiamo conquistato questa vittoria con tanti gol. Un'altra bella notizia è arrivata dal pareggio della Svizzera, allora martedì vale ancora di più. Sì, non sarebbe cambiato comunque perché sapevamo come dovevamo affrontare la Svizzera, dovevamo occuparci di questa partita ma eravamo molto focalizzate anche sulla prossima, ovviamente questo pareggio non possiamo negare che potrebbe aiutarci, però in realtà non ci aiuta se non facciamo quello che dobbiamo fare, quindi dipende da noi.